Prima parla tu su come è stato lavorare insieme per la prima volta, perché è stato il mio caso in cui ha dato la possibilità di mandare sulla moglie. Bravo, bravo! Scusate, non si è uscito. Hanno sgamato quasi subito che stavamo insieme sul set. All'inizio era strano, mi faceva molto strano. nonostante insomma e avremmo addirittura deciso di prendere quando giravamo fuori Roma di separarci nel senso tu la tua stanza e la mia stanza siamo totalmente professionali arriviamo sul set poi è chiaro che lo spirito in realtà era la sera di grandissima condivisione sia di set che di idee ma con tutti quanti insomma perché ci trovavamo a cena a condividere idee aspettative per il giorno dopo percorsi psicologici del personaggio eccetera eccetera che in un attimo ci siamo dimenticati di far finta di non essere quasi una coppia e siamo tornati ad essere una coppia anche se sul set in realtà ci è venuto distinto a essere totalmente quasi due strane, non so come spiegarti insomma proprio attrice e regista in qualche maniera però è diventato molto spontaneo è stato anche molto bello sai come ho conosciuto sotto un ulteriore punto di vista grazie ha conosciuto l'aspetto beato no? perché poi a casa sono più mantina invece sul set sono molto disciplinata amo essere diretta perché poi quando mi auto gestisco faccio dei gran casini e quindi lui secondo me ha amato molto questo dominare in questo senso si può dire no? perché io ormai se poi abbiamo rispettato i buoni si può dire oppure si può dire c'è il mandato di no che è il mandato di no